Allora, prima di andare in questa ripresa di Regione Europa in questa domenica 14 settembre, prima di andare a vedere quali sono le scadenze delle prossime settimane del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea, parliamo un attimo appunto di locale, di territori, di macro-regioni e lo facciamo parlando della prima macro-regione dell'Unione Europea che si è ufficialmente costituita prima della pausa estiva con la decisione della Commissione lo scorso giugno, la deliberazione del Comitato delle Regioni lo scorso luglio e che riguarda appunto la macro-regione ionico-adriatica. Subito però le novità per quanto riguarda le attività di questo autunno della macro-regione ionico-adriatica. Da Ancona, Claudio Sargenti. Lo sguardo è rivolto ancora a Bruxelles ma questa volta per la decisione finale il 24 e 25 ottobre il Consiglio Europeo, presieduto da Matteo Renzi, darà il via libera definitivo alla nascita della macro-regione adriatica, un avvio concreto dell'attività che il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca, l'uomo che si è più speso per l'iniziativa, sintetizza così. Con i progetti che sono in fase di definizione tra le regioni che compongono la strategia della macro-regione ma non soltanto, potranno anche essere soggetti privati, imprenditori, camere di commercio o anche amministrazioni che collegandosi tra di loro nella prospettiva della macro-regione definiranno dei progetti secondo i quattro pilastri che compongono la linea di azione del programma definito dalla Commissione Europea, che come sappiamo sono l'ambiente, la connettività, quindi le infrastrutture, il tema dell'economia blu e il tema del turismo. Dunque è partito il conto alla rovescia per la nascita della nuova macro-regione, una modalità innovativa di cooperazione territoriale tra regioni e nazioni diverse con l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La macro-regione, possiamo sintetizzare, è un'area funzionale composta da enti nazionali, regionali e locali associati per affrontare insieme alcune problematiche comuni, i cosiddetti quattro pilastri e di interessi ai territori di Albania, Bosnia e Zegovnia, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Quattro pilastri di intervento, dicevamo, ai quali se ne è aggiunto un quinto, come dire, trasversale, quello della comunicazione. È un'area molto, molto difficile che deve saper collaborare nella dimensione progettuale, ma anche trovare il modo di rapportarsi sotto il profilo culturale. Quando parliamo di macro-regione, Adriatico e Ionica, parliamo di una superficie di quasi 600 mila metri quadrati con una popolazione di oltre 60 milioni di abitanti. Il PIL rappresenta quasi il 2% del PIL mondiale e ancora il prodotto interno lordo è rappresentato per il 4% dall'agricoltura, il 25% dall'industria e per il 71% dai servizi. Gli ispiratori, precursori della strategia macro-regionale sono stati il forum delle città, dell'Adriatico, le camere di commercio, le università e il segretariato dell'iniziativa Adriatico-Ionica, ufficio distaccato del nostro Ministero degli Esteri che ha sede proprio ad Ancona. Qui siamo nella cittadella di Ancona e questo è il luogo fisico nel quale 8 Ministri degli Esteri decisero di imbarcarsi in questa avventura della macro-regione. E da quell'incontro nacque l'iniziativa Adriatico-Ionica, cioè un accordo tra governi per parlarsi su dei vari piani, su dei vari dossier, ma per riappropriarsi di un dialogo che era sparito. Dicevamo dei territori che fanno parte della macro-regione, per l'Italia partecipano oltre alle regioni che si affacciano sul mare, anche l'Umbria, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. In realtà queste regioni fanno parte dell'economia integrata di questo territorio, quindi guardano lo sbocco verso est e la strategia della macro-regione consente di costruire questa linea di condotta, questa linea di economia ma anche di società, quindi è bene che ci siano anche Lombardia, Trentino e Umbria perché ha più forza la strategia macro-regionale. Dunque il 24 e il 25 ottobre la nascita della macro-regione, il 18 novembre ancora a Bruxelles per la presentazione alla comunità internazionale della nuova realtà.